Proprio per questo in occasione del primo maggio abbiamo approvato un ulteriore pacchetto di norme che libera circa 3 miliardi di euro per incentivare l'assunzione di donne, giovani, lavoratori più fragili soprattutto al sud. Ma non ci stiamo occupando solo di rilanciare il nostro mercato del lavoro, di renderlo più dinamico. Stiamo concentrando la nostra attenzione anche sulle nuove sfide che i nostri lavoratori e le nostre imprese sono chiamati ad affrontare.